green pass obbligatorio le nuove misure in vigore dal 6 agosto covid più di 100 casi nelle marche nelle ultime 24 ore recovery in calo presidio dei dipendenti della struttura sanitaria santo stefano cerimone degli attestati al liceo scientifico marconi premiati oltre 400 studenti una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo delle novità annunciate ieri sull'utilizzo del green pass nel primo servizio sentiamo infatti un riassunto di tutte le situazioni che ne prevedono l'obbligatorietà dal prossimo 6 agosto entreranno in vigore dal prossimo 6 agosto per tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni le estensioni relative all'utilizzo obbligatorio del green pass annunciate ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa dal presidente del consiglio mario draghi e dal ministro della salute roberto speranza sarà necessario esibire il certificato verde per le consumazioni al tavolo all'interno di bar e ristoranti mentre non verrà richiesto per i servizi all'esterno o per quanto riguarda i bar al bancone il green pass servirà anche per accedere a diversi altri servizi e attività tra cui palestre piscine e centri benessere sul fronte cultura ed eventi il certificato verde diventerà obbligatorio anche per mostre musei cinema teatri stadi concerti e competizioni sportive in zona bianca in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico saranno svolti esclusivamente composti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i non conviventi anche l'ingresso a feste ricevimenti parchi tematici e di divertimento sagre fiere convegni e anche ai concorsi pubblici richiederà l'esibizione del pass nessuna novità invece sulle discoteche che rimangono quindi chiuse mentre sono state rimandate le decisioni relative al comparto scuola e trasporti il green pass verrà rilasciato dopo la somministrazione della prima dose del vaccino anti covid a completamento del ciclo la validità del certificato sarà di nove mesi oppure in seguito alla guarigione dal virus in questo caso la validità sarà di sei mesi o ancora con l'esecuzione di un tampone rapido molecolare che renderà valido il pass per le 48 ore successive allo svolgimento del test le misure del nuovo decreto e le comunicazioni di ieri hanno interessato anche la proroga dello stato di emergenza e l'istituzione dei nuovi parametri per far scattare il cambio della fascia di rischio assegnata alle regioni il cambio di colore si attiverà tenendo in considerazione il numero dei nuovi contagi e quello dei ricoveri ospedalieri con un'incidenza pari o superiore ai 150 casi ogni 100 mila abitanti e superando il tasso di occupazione del 10 per cento nelle terapie intensive e 15 per cento nelle aree mediche si finisce in zona gialla le percentuali per la zona arancione segnano il superamento del 20 per cento nei reparti intensivi e il 30 in quelli non mentre lo scatto in zona rossa sarà sancito da una pressione ospedaliera che vede le terapie intensive occupate per oltre il 30 per cento e le altre aree mediche per il 40 per cento e parliamo ora di vaccinazioni perché il servizio salute della regione Marche ha comunicato questo pomeriggio che nell'arco delle ultime due settimane si è registrato progressivamente un aumento delle prenotazioni per aderire alla campagna vaccinale nelle Marche dove si ricorda hanno già aderito quasi un milione di cittadini su un totale della popolazione vaccinabile di circa 1,35 milioni guardando l'andamento progressivo si rileva che negli ultimi giorni dal 19 luglio si sono registrate 13.232 persone in media 2.646 al giorno e il trend in aumento sembra essere confermato anche dalle ultime rilevazioni passiamo ora invece alla pagina relativa agli aggiornamenti covid nelle ultime 24 ore sul territorio regionale è stato di 2.807 il numero complessivo di test effettuati con 1.432 tamponi nel percorso nuove diagnosi e 1.375 nel percorso guariti 106 il totale dei casi positivi riscontrati con una percentuale di positivi rispetto ai test eseguiti del 7,4% i casi riscontrati nella provincia di Pesaro Urbino sono stati 22 rimane instabile a 6 il numero delle persone che attualmente si trovano ricoverate nei reparti intensivi e semi intensivi dell'ospedale Marche Nord di Pesaro due invece sono i pazienti delle aree non intensive nelle ultime 24 ore non sono stati notificati decessi legati al covid rinnovo del contratto della sanità privata e adeguamento salariale rispetto alle strutture pubbliche sono alcune delle motivazioni alla base del presidio che questa mattina ha visto protagonisti i dipendenti del gruppo Coscare e della struttura sanitaria Santo Stefano di Villa Fastigi insieme ad alcune sigle sindacali vediamo venerdì 23 luglio presidio questa mattina dei dipendenti del gruppo Coscare all'esterno della struttura sanitaria di Villa Fastigi presenti anche le sigle sindacali Will e CGL il presidio diciamo fa seguito a una serie di presidi che sono iniziati da Ascoli e sono proseguiti con i centri di Macerata Ancona e oggi con Pesaro che ricomprende anche le strutture di Cagli e Macerata Feltri che andiamo in rinnovo l'applicazione del contratto della sanità privata rinnovato perché questi lavoratori che sono impegnati in queste strutture hanno il contratto scaduto da più di 12 anni e sostanzialmente lavorano avendo le stesse professionalità richieste nelle strutture pubbliche con medie di stipendio nettamente più basse all'interno degli stessi percorsi formativi e corsi di laurea e quant'altro abbiamo degli infermieri e dei fisioterapisti che all'interno della sanità privata prendono uno stipendio di circa 400 euro in meno a differenza di chi lavora nel pubblico questo è inaudito perché gli stessi lavoratori del gruppo Coscare quindi sanità privata anche nel periodo del Covid hanno lavorato con dedizione hanno trattato pazienti post coma e quant'altro nello stesso modo non è perché prendevano una ritribuzione inferiore hanno dato meno hanno dato pari a quelli che lavoravano nel pubblico Noi chiediamo alla regione di intervenire in analogia con quanto è accaduto in Emilia Romagna dove la regione ha modificato il tariffario riconoscendo il gruppo Coscare che è lo stesso gruppo che lavora nelle marche un tariffario differente e questo ha consentito l'applicazione del contratto rinnovato con un riconoscimento giusto, meritato di scatti di anzianità, di retribuzioni più alte e di riduzione dell'orario di lavoro perché loro lavorano di più 38 ore a fronte di 36 e guadagnano di meno rispetto a lavoratori con le stesse professionalità che lavorano nelle strutture pubbliche Stiamo attendendo da troppi anni ormai dal 2012 che stiamo aspettando un rinnovo adeguato c'è stato un rinnovo a ribasso e questo non è più possibile accettarlo specialmente dopo questa situazione di emergenza Covid ma non solo siamo tutti professionisti e vogliamo la stessa dignità e pari diritti L'azienda sta scegliendo di fare profitto a discapito dei lavoratori che sono appunto sottopagati e quindi anche dei servizi che vengono offerti poi agli assistiti L'azienda per cui noi lavoriamo è convenzionata con la regione presta un servizio di sanità pubblica e quindi le differenze che esistono attualmente non hanno più senso di esistere All'interno delle stesse strutture coesistono lavoratori che svolgono le stesse mansioni e che attualmente hanno stipendi differenti dopo il rinnovo del 2012 e anche questo ai fini pensionistici avrà purtroppo una sua ricaduta quindi dobbiamo tutelare il nostro futuro e il futuro dei nostri colleghi E ora cambiamo pagina perché si è svolta ieri pomeriggio al liceo scientifico Marconi la cerimonia dei diplomati durante la quale sono stati premiati i maturandi e gli studenti che hanno terminato l'ultimo anno delle scuole medie che hanno tenuto la massima votazione al termine dell'anno scolastico Ce ne parla in questo servizio Edoardo Razzi Il covid e la didattica a distanza non hanno fermato anche nel secondo inverno di pandemia la volontà e il desiderio degli alunni delle scuole pesaresi nel terminare il ciclo di studi con risultati eccellenti E' andata in scena ieri nell'anfiteatro del liceo Marconi la cerimonia dei diplomati durante la quale sono stati consegnati gli attestati di merito agli studenti delle classi terze delle scuole medie e ai maturandi delle superiori che hanno completato l'anno scolastico 2020-2021 con il massimo dei voti Diverse le autorità che hanno preso parte all'evento tra cui il prefetto della provincia di Pesaro e Urbino Tommaso Ricciardi il sindaco Matteo Ricci il presidente della provincia Giuseppe Paolini insieme al presidente del consiglio comunale Marco Perugini il presidente del liceo scientifico Marconi Riccardo Rossini e l'assessore alla crescita e alla gentilezza Giuliana Ceccarelli E' un giusto riconoscimento per il grande lavoro che hanno fatto questi ragazzi in questo anno scolastico particolarmente difficile a dire il vero sono due gli anni scolastici particolarmente difficili quindi a maggior ragione credo che meritano tutto il nostro apprezzamento tutto l'apprezzamento della città per il lavoro con lo studio che hanno fatto per conseguire questi risultati ci sono i ragazzi che hanno conseguito il massimo dei voti 10 e 10 elode al termine della scuola secondaria di primo grado e 100 e 100 elode al termine della scuola secondaria di secondo grado sono tanti sono più di 400 sono 470 in totale e alcuni saranno assenti perché ovviamente sono partiti per le vacanze però ci sembrava utile e importante anche per loro per dar merito al grande studio che hanno fatto da tenere presente che questa era un'iniziativa che prima del lockdown era già vigente nel senso che per le scuole medie come Comune di Pesero già lo facevamo e per le scuole secondarie per le scuole superiori invece era la provincia che pensava a questo la provincia non è più in grado di poterlo fare per mancanza di personale e altro e quest'anno ho deciso insieme al presidente del consiglio comunale e a Marco Perugini di farlo per i ragazzi delle nostre scuole secondarie di secondo grado per i nostri superiori non sono stati due anni facili il covid ha modificato radicalmente il nostro modo di fare scuola le scuole medie ne hanno risentito un po' di meno rispetto alle superiori ma comunque hanno subito il contraccolpo la didattica a distanza una didattica complicata la relazione complicata ha fatto sì che questi due anni non fossero due anni normali quindi a loro vanno i nostri complimenti perché hanno ottenuto un risultato brillante in un momento difficile in due anni veramente difficili complimenti a loro veramente una nuova cartellonistica stradale per rafforzare l'identità sportiva e turistica della riviera del San Bartolo così l'assessore Emila della Dora ha presentato il progetto che da oggi collega Pesaro a Gabice Mare lungo la strada panoramica l'iniziativa messa in campo grazie alla sinergia di tutti gli enti locali e attesa da tempo in particolare dai ciclisti e dai camminatori prevede l'installazione di 23 cartelli bifacciali che indicano i chilometri di distanza per raggiungere Gabice sul lato e Pesaro dall'altro Pesaro si candida ufficialmente a Capitale Italiana della Cultura 2024 l'amministrazione comunale ha presentato la sua manifestazione di interesse con la consegna del dossier di candidatura al Ministero della Cultura nel pomeriggio di ieri al conventino di Monte Ciccardo si è svolta la presentazione della strategia scelta ai sindaci dei comuni della provincia protagonisti appunto in Sienma Pesaro del percorso che con loro verrà condiviso come ha sottolineato il sindaco e primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci lunedì 26 luglio alle 21.30 al parco Miralfiore all'interno del cartellone Miral Teatro d'estate arriva Freedom un evento speciale dedicato ai cross sound dell'orchestra sinfonica Rossini protagonista sul palco la cantante pesarese Clarissa Vichi in un tributo a due icone contemporanee Prince e George Michael ad accompagnarla all'orchestra sinfonica diretta da Pasquale Corrado e tanti sono gli eventi in programma Pesaro per questo fine settimana e per le prossime giornate vediamo una serie di interviste che ci ripresentano Lucio Signoretti della compagnia teatrale GAF due serate ma perché due serate? Perché? Perché lo scorso anno abbiamo provato questa pazzia proviamo due serate abbiamo avuto un bel successo una bella partecipazione di pubblico e allora perché non riprovare? E ci riproviamo anche quest'anno tant'è che poi non solo riproviamo le due serate ma portiamo in scena il sequel della commedia dello scorso anno allora lo scorso anno abbiamo rappresentato una commedia che parlava dei nostri comportamenti diciamo durante questo periodo di pandemia dei lockdown le mascherine e quant'altro chiaramente abbiamo cercato di fare il tutto nel rispetto dell'argomento trattato e ha avuto un successone allora cosa ci siamo detti? Riprendiamo esattamente da dove si è terminata la commedia dello scorso anno quindi ad agosto del 2020 riprendiamo la storia la storia si evolve continua abbiamo inserito nuovi personaggi e abbiamo pensato di fare questa pazzia è la prima volta che facciamo un sequel anche perché poi ci vuole davvero l'ha già detto una certa sensibilità perché affrontare un tema difficile come questo con comunque l'ironia che ci fa ci fa ben sperare nel futuro nella vita che tanto supereremo questa fase così difficile non è sicuramente una cosa semplice non è una cosa semplice ci siamo riusciti lo scorso anno speriamo di ripeterci anche quest'anno di essere leggeri di portare buon umore e di trattare gli argomenti nel giusto modo ma ci siamo riusciti quindi siamo ottimisti e soprattutto voglio dire questa commedia è un sequel però ha una fine quindi non ha un finale aperto come era quello dello scorso anno ma un finale chiuso perché non la vogliamo più ripetere con questi vogliamo parlare di argomenti diversi insomma di altra natura e quindi vuole essere anche di auspicio insomma ecco questa commedia comunque chi si vuole divertire deve venire il 23 il 24 luglio qui all'Arena BCC perché noi promettiamo divertimento buon umore risate e noi nelle prove stiamo facendo le ultime prove ci stiamo divertendo parecchio perché noi come dico sempre noi siamo i primi spettatori esigenti di noi stessi perché se non ci divertiamo noi non riusciamo poi a trasferire al pubblico quella spontaneità quel divertimento quella complicità che c'è fra di noi il 27 luglio che è un martedì saremo a Baia Flaminia al Bagnacciuga e sarà una serata di musica e parole sarà una serata divertente dove ognuno può interverire semplicemente o per cenare o per curiosare o per indossare magari qualche maglietta che poi ha un futuro di donazione quindi la storia nasce attorno a un brand che voleva contribuire alla ricerca per i tumori femminili nasce dall'unione con me che sono una musicista e che dopo la pandemia in mezzo alla pandemia avendo interrotto la mia attività lavorativa principale ho deciso di catartizzare anche la malattia della mia mamma che è avvenuta nello stesso momento c'è stata questa congiuntura fortunata con una collezione di parole che fossero a supporto di un volersi bene delle donne di un sentirsi al centro della propria vita di farsi forza e di sentirsi belle a prescindere dalla taglia e dalla condizione come si fa per partecipare? si prenota direttamente al bagnaciuga in Baia Flaminia oppure si scrive al numero 349 23 73 645 Come prima è un'associazione di donne oncologiche malate di tumore al seno questo è ciò che ci accomuna è un'associazione ormai presente sul territorio da 30 anni perché nasce nel 90 e la nostra caratteristica è quella di dare di sostenere psicologicamente soprattutto le donne che si trovano sole ad affrontare la malattia subito dopo la chiusura dalla pandemia abbiamo avuto la fortuna di conoscere due ragazze che come noi si rapportano nei confronti della malattia con la stessa consapevolezza dando un tocco di leggerezza a questa situazione così pesante che è di grandissimo conforto di grandissimo aiuto a chi sta affrontando chi ha affrontato la malattia perché comunque tanto ti rimane sempre dentro Piazze è di fatto uno dei pochissimi festival in Italia nato in pandemia e dal vivo è nato perché c'era un'esigenza da parte di alcune comunità del territorio di ritrovarsi nell'atto teatrale quindi noi semplicemente come Università di Urbino perché noi siamo il centro teatrale dell'Università di Urbino abbiamo raccolto queste esigenze e così è nato il festival Piazze questa notte toccherà circa dieci borghi dell'entroterra con spettacoli di assoluto livello quindi artisti di primo piano nel panorama nazionale e lo fa grazie a questa particolarità noi abbiamo costruito un palcoscenico in legno modulabile e smontabile che riusciamo in qualche modo a spostare durante tutte le state da un posto all'altro questo ci permette di trasformare qualsiasi piazza in un luogo di spettacolo in un teatro a cielo aperto si comincia il 27 di luglio da Sant'Angelo Invado con Tindaro Granata uno spettacolo bellissimo antropolaroid che quest'anno ormai è al suo decimo anniversario e si attraversa praticamente tutta la provincia e si finisce a Gallo di Petriano l'8 settembre quindi diciamo sono diversi mesi il ruolo dell'università è centrale perché il Centro Teatrale Universitario Cesare Questa come dice il nome è parte dell'università è un organismo dell'università se voi andate sul sito dell'università sotto la voce terza missione che è uno dei compiti principali dell'università italiana cioè quello di tramutare i propri prodotti della ricerca in servizi per il territorio troverete il Centro Teatrale Universitario Cesare Questa fra gli organismi principali che svolgono questa funzione e UTU Piazze è credo una delle manifestazioni delle più concrete di questa attività sul territorio perché porta il teatro dove il teatro non c'è trasforma in prodotti chiamiamoli prodotti culturali che servono per la comunità perché il teatro ha un valore sociale antropologico importantissimo per la comunità trasforma i prodotti della ricerca in prodotti culturali di alto livello uno degli eventi che vorrei sottolineare che mi sta particolarmente a cuore è un evento che ho diciamo quasi chiesto e che verrà fatto che si farà il 31 di agosto a Isola del Piano e che dalla semina al cielo perché quest'anno ricorrono i 50 anni quanto con Gino Girolomoni e alcuni ragazzi di Isola del Piano andammo per la prima volta al monastero di Montebello l'evento riguarderà Gino Girolomoni ci saranno anche probabilmente dei passaggi come mi era stato detto su Baldassare Castiglione che era il signore di Isola del Piano e le poste quel giorno faranno anche un annullo filatelico sui 50 anni di Montebello e della cooperativa Girolomoni Il Comune di Fossombrone fa parte del progetto itinerario della bellezza e noi da 5 anni gestiamo sia gli uffici di informazione turistica che i servizi museali per cui i luoghi le sedi di questa mostra sono permanentemente gestite dal nostro personale e quindi c'è una collaborazione diretta e anzi poi abbiamo avuto anche l'incarico di seguire il servizio di vigilanza e di assistenza ai visitatori per cui abbiamo fatto anche nuove assunzioni proprio in questi giorni quindi è una collaborazione proprio operativa nello stesso tempo il progetto della mostra di Giuseppe Diamantini rientra nel filone più ampio del progetto itinerario della bellezza con il quale noi intendiamo valorizzare questi territori ma soprattutto far conoscere e valorizzare le eccellenze e le bellezze del nostro territorio dal punto di vista ambientale e culturale il turismo è importante ma soprattutto è importante rendere participe la cittadinanza dei beni culturali che la città conserva i beni culturali secondo me servono per accrescere la consapevolezza dell'appartenenza a una determinata città quindi sviluppare l'identità cittadina questa grande mostra possiamo dire veramente grande mostra che si sviluppa in due sedi la chiesa di San Filippo e la pinacoteca civica propone all'attenzione Giuseppe Diamantini che è uno dei pittori più importanti che la città di Fossombrone ha conosciuto è una mostra importante una mostra impegnativa anche per un comune tutto sommato piccolo come il nostro anche da un punto di vista economico se vogliamo ma qui devo ringraziare anche la regione che è intervenuta pesantemente a livello appunto di contributi e quindi ecco come dicevi tu poco fa è un ulteriore spunto per eventuali turisti visitatori per venire a vedere Fossombrone non solo la mostra ma anche tutte le altre realtà che la nostra città offre non solo dal punto di vista artistico e culturale ma anche paesaggistico voglio ricordare non solo le cesane piuttosto che le marmitte dei giganti quindi è un po' un nuovo biglietto da visita per la nostra città che viene tra l'altro anche alla fine speriamo di un periodo estremamente difficile per ovvi motivi per cui ci auguriamo che sia anche un piccolo segnale di ripresa e di rinascita dopo gli ultimi mesi piuttosto difficili intanto penso a scoprire un artista che assolutamente non è noto al grande pubblico o comunque poco noto che noi abbiamo cercato di restituire in maniera monografica perché è un artista che ha una straordinaria attività di incisore per cui forse è ancora più noto che come pittore e che sarà documentata in maniera anche con un catalogo ragionato ma anche con molte incisioni in mostra però abbiamo fatto un lavoro di ricerca dove troverete moltissime novità ma anche mettendo insieme le conoscenze fino ad oggi su lui come pittore e quindi è una mostra in cui in maniera monografica scopriremo un artista di grandissimo successo nella Venezia del secondo seicento e che ha ancora molto da dire a tutti noi e come avrete potuto vedere da qualche giorno Rossini TV si sta rinnovando dal punto di vista grafico in particolare tra i primi step c'è stata la creazione del nuovo logo ve lo presentiamo in questo prossimo servizio abbiamo deciso come avete visto già da qualche giorno di rinnovare completamente il nostro logo il nostro marchio in questa operazione che si chiama appunto rebranding perché permette di dare una luce nuova insomma alla nostra struttura e alla nostra azienda perché in questo momento perché il marchio è uno strumento fondamentale e quindi deve essere sempre più al passo con i tempi innovativo e andare verso la digitalizzazione questo nuovo marchio è stato fatto appunto in modo semplice lineare ed efficace e facilmente adattabili adattabile a tutti gli strumenti di comunicazione che Rossini TV propone ci siamo avalsi chiaramente della collaborazione di un nostro consulente un ragazzo un professionista in questo perché non bisogna improvvisarsi un professionista che ha studiato i tratti salienti della nostra filosofia la nostra mission la nostra vision e attraverso queste indicazioni ha creato l'immagine appunto del nuovo logo di Rossini TV vedete i colori i colori della terra i colori del mare vedete che comunque ci sono ancora dei tratti che richiamano la palla di pomodoro perché come sapete Rossini TV è l'unica tv con sede a Pesaro quindi queste connotazioni prettamente territoriali la sfida è stata quella innanzitutto di trovare una sintesi visiva che allo stesso tempo avesse una continuità rispetto al logo precedente con quella nuova e con comunque l'obiettivo che Rossini TV si era prefissato di raggiungere ovvero quello di innovarsi ed essere al passo con i tempi in questo caso è stata appunto creata una sintesi visiva dove si univano diversi elementi mantenendo comunque sempre una certa linearità e semplicità nel recepire il marchio abbiamo introdotto un cerchio in cui è stato iscritto l'iniziale di Rossini la lettera R ma allo stesso tempo questa lettera voleva anche connotare un po' il territorio ovvero il monte il parco San Bartolo e il mare la spiaggia il litorale che poi fa parte di Pesaro i colori sono stati comunque rinnovati sono più attinenti al mondo digitale hanno un colore molto più acceso rispetto al verde precedente e sono stati eliminati diversi elementi cercando appunto di andare incontro a questa semplicità di lettura del logo in realtà è stato un logo abbastanza semplice ma allo stesso tempo doveva essere comunque riconducibile a quello precedente quindi non è stato stravolto a livello semantico ma più a livello di forma di visivo un appello è anche quello che voglio fare a tutte le aziende sia i nostri partner ma anche quelle che lo saranno in futuro di stare sempre attenti con i tempi al passo con i tempi che cambiano quindi la propria immagine deve essere sempre curata ed efficace e seguire le nuove tecnologie Rossini TV nel suo team nel suo staff ha delle persone competenti che possono lavorare costantemente lavorano sulla comunicazione delle aziende e chiaramente dei loro marchi e loghi e si è svolto ieri nella cornice dell'hotel Excelsior un evento organizzato dall'associazione culturale storia in azione cronache dell'identità italiana dedicato ai personaggi e agli eventi della divina commedia il servizio è di Marco Cadeddu Debutto con i fiocchi questa sera per l'associazione culturale storia in azione cronaca dell'identità italiana il presidente Massimo Baronciani sarà il relatore di una conferenza dedicata ai personaggi e agli eventi della divina commedia nella provincia di Pesar Urbino in occasione del settecentesimo anniversario della dipartita del sommo poeta oggi si inaugura con questo evento che naturalmente rammemora i settecento anni della morte di Dante Alighieri ma che rappresentano anche un tratto costitutivo dell'identità italiana e della sua storia nel suo incessante divenire Dante è eterno e ci sembrava giusto omaggiarlo come primo nostro appuntamento Ecco Dottor Baronciani tra l'altro un Dante immerso nella nostra provincia è questo il light motive della sua conferenza questa sera Sì ovviamente ripescare i personaggi e gli eventi della nostra provincia che appartengono anche alla Divina Commedia significa dare risalto ai tratti costitutivi genetici della nostra storia medievale e non solo perché sono avvenimenti che hanno tutti contribuito e personaggi a plasmare la nostra storia attraverso cose nomi geografia e storia senza le quali non c'è identità a proposito a proposito di geografia quali sono le località che verranno toccate nella disamina durante la sua conferenza per chi potrà non potrà essere qui stasera beh ci sarà naturalmente Gradara Fiorenzola di Focara Fano e anche il Monte Feltro seppur quella parte che non ci appartiene più amministrativamente dopo il referendum nel 2009 ma che comunque geograficamente e culturalmente fa ancora parte della nostra storia Presidente quali saranno i prossimi appuntamenti dell'Associazione Storia e Nazione Cronache dell'identità italiana visto che lei è il Presidente ma è tutto in divenire il prossimo molto probabilmente potrebbe essere dedicato al processo di Gesù anche per la rivisitazione di un evento che è stato importantissimo che è riferibile alle tradizioni giudaico-cristiane e naturalmente ebraiche della nostra civiltà europea poi per il resto stiamo costruendo il cantiere in allestimento il cantiere in allestimento lei è il capo di questo cantiere si augura di arrivare a quali risultati? Non sono il capo è uno staff è un team che lavora insieme siamo alcune persone il risultato però non è semplicemente quello di creare una serie di eventi slegati tra loro ma di poterli legare attraverso una trama costitutiva che sia fatta di pensieri parole approfondimenti giornalismo libri scritti in modo che non ci siano solo le perle ma vi sia anche naturalmente il tessuto connettivo l'associazione è neocostituita e in verità l'associazione si prefigge un obiettivo molto ambizioso come dirò in apertura che è quello non soltanto di promuovere degli eventi culturali sul territorio ma lo scopo principe è proprio quello di risvegliare l'identità e il senso di appartenenza di ciascuno di noi e quindi quel legame con le tradizioni con la cultura con il proprio territorio che ritengo sia un obiettivo davvero importante questo è il primo appuntamento ce ne elenca se sono già in programma altri a breve? ci saranno sicuramente altri appuntamenti perché l'idea è quella di creare un percorso di eventi culturali al momento ci riserviamo di scegliere i personaggi che saranno appunto oggetto dei prossimi appuntamenti e storia in azione comunicherà chiaramente pubblicamente i prossimi eventi ecco chi volesse aderire all'associazione vista che è aperta a tutti cosa deve fare chi deve contattare come deve mettersi d'accordo con voi? l'associazione culturale chiaramente è aperta a tutti ed è di natura trasversale pertanto può essere contattato possono essere contattati i tre fondatori dell'associazione che sono Massimo Baronciani Marcello Valdinocci e Cesare Cofanelli che poi daranno tutte le informazioni relative all'iscrizione e questa notizia conclude questa edizione del nostro telegiornale Rossini News non perdetevi però la programmazione di Rossini TV in prima serata questa sera alle 21.15 infatti potrete vedere lo speciale dedicato all'edizione 2021 delle Buonanotte di Monte Labate lo speciale quindi questa sera in prima serata alle 21.15 l'informazione poi torna puntuale domani mattina in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini che sarà condotta da Antonio Studi grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale un buon proseguimento di serata su Rossini TV Grazie a tutti